ciao a tutti ragazzi io sono Zane e oggi sono qui col primo video del mio canale youtube almeno non è il primo ma il secondo però è il primo dove faccio un diciamo un vlog un ciao vlog se possiamo chiamarli così come vedete come vedete siamo qua dispersi nel nulla non è vero cioè siamo nella zona industriale del mio paese che sto aspettando qua un mio amico che ha anche lui un ciao e oggi andiamo a farsi un giro insieme e vi faccio partire il video proprio dall'inizio da quando sono partito da casa che ho fatto benzina ottimo direi partiamo bene se riesco a fare qualche danno spero di no banca di ford madonna che c'è la maniglia malta rotta ecco appunto dios e via anche specchietto modalità integrale attivato vabbè che comunque di regali in questo ciao qua non c'è niente però accendiamo il celletto siamo partiti e ora andiamo in zona industriale dove mi aspetta il mio amico ma io arrivo in zona industriale tassi sono regionale dove resti abito in città e quindi ad otto infatti non è ancora arrivato però lo aspettiamo bene ragazzi eccoci qua in valle a me è toccato di andare piano perché c'è il ciao che mi è stato scompato e a me è andato in zona ma da un'altra ma ecco 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 andiamo piano dunque non so come si senta perché si senta il microfono sto usando quello della GoPro io ogni tanto semmai parlo sola sulle volle dunque siamo quasi arrivati è una strada qua in mecca Vescagna che è piena di fango adesso vedremo se devo ascoltarla ora ci spostiamo andiamo in un altro posto io vi filmo il tragitto vi faccio sentire il sound perché se parlo non si sente un cazzo cioè si sente però fa schifo e tanto il sound del ciao merita ma si cazzo me ne frega eh prossimo volta che poi qua c'è vabbè dura durerà durerà dai è un po' rotta però proviamo a vedere ah si dai che resta caldo e si parte un'altra volta sempre in queste strade di narda è un po' rotta un po' rotta qual è diverso? ah è vabbè ah Amin che dai ok Più va bene vabbè E' anche qua che pinde buge Ma che roba Ma che roba Ma che roba No, no, no. si beh mio è meglio mia di me orco dio che cazzo è quella roba beh tanto era già in mezzo al campo quindi guarda ci sono anche fin de faro ho messo il piede sui pantani ci sono anche i fili della corrente ma anche quello lì cos'è un fin da farlo quello lì no quello lì quello che capisce avanti ti metti il sveca va che lo via facciamo i bravi andiamo la nella strada se almeno faccio qualche penna guarda stanno delle torne che sono spettacolari ecco noi di solito ci fermiamo qua perché è il punto di strada messa meglio e anche perché c'è scritto un hashtag ciao lì qua c'è una casa abbandonata e là dietro dove ho fatto una storia col ciao mentre c'era il tramonto che è venuto fuori una figata niente adesso niente adesso che figata di tramonto però c'è veramente bellissima tre figata c'è 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 tì c'è ah Avanti, Dio, go! Grazie a tutti. 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 Siamo tornati praticamente al punto dove ci siamo trovati prima e adesso si sa che chiudo qua il video perché torno a casa. È tutto di nulla. È bello. Alla prossima.